Chi conosce l'arte di Luigi Ontani riesce a cogliere l'origine dell'ispirazione di questi piccoli artisti. Le maschere in ceramica che vedete sono state realizzate dagli allievi del laboratorio bolognese studio d'arte doppia parte. Hanno tra i 6 e i 16 anni e provengono da varie parti del mondo. Qui a Vergato, nella patria del maestro Luigi Ontani, che sul territorio ha lasciato molte opere, sono in mostra 60 maschere, 60 querelli e 60 fotografie, dove lo stesso soggetto è riprodotto nelle tre forme d'arte in pieno stile Ontani. Queste due maestre d'arte hanno pensato che il posto migliore, visto che è ispirata a Luigi Ontani, hanno pensato di portarla il più vicino possibile a lui, cioè al museo Ontani. Prendere l'ispirazione da un grande maestro come può essere Ontani è una cosa bellissima, infatti lui è stato qui con noi il giorno dell'inaugurazione, era veramente felicissimo. Che cosa è stato chiesto di rappresentare a questi ragazzi? Quello che avevano dentro di loro hanno detto voi pensate a una maschera che potreste indossare ma mettete delle cose che sentite voi. Sono cose che vengono dai bambini, che vengono dall'anima, dall'anima del bambino. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.